Un giorno del ricordo istituito nel 2004 con la volontà di ricordare dei decenni di storie accancellate in cui si dimenticò la tragedia di un popolo, il popolo della Venezia Giure d'Almazia, che a causa della guerra e a causa degli orrori del nazionalismo fuggì, lasciò le proprie terre. Ora questo popolo si sparse per tutto il mondo, grossa parte arrivò in Italia 109 campi profughi, tra questi campi profughi in tutta Italia Napoli aveva tre campi profughi e accolse Napoli una città distrutta nel 1947, accolse gli esuli, le accolse insieme costruirono una città distrutta guardando avanti nel futuro. L'importanza di ricordare, siamo qui insieme per ricordare e per poter tenere presente la tragedia che è avvenuta e non dimenticare, per evitare che si ripetano gli orrori che sono successi durante la seconda guerra mondiale. Una pagina della storia negata per decenni che a Napoli rivive ed anzi ogni anno e contribuisce a ricostruire momenti di verità in un luogo simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione. Nel 1947 nel centro raccolta profughi all'interno del bosco di Capodimonte trovarono ospitalità gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, obbligati a lasciare le loro terre per le drammatiche vicende del confine orientale. La solidarietà dei napoletani non mancò, ognuno aiutava con ciò che aveva e così qui mille persone vissero per decenni e per generazioni. Di quel periodo tutti loro raccontano di una grande integrazione e di un rapporto ottimo con la città che li accolse pur essendo in condizioni di grande povertà a causa delle devastazioni della guerra. Eventi che oggi vengono ricordati insieme con gli eccidi conosciuti come i massacri delle foibe. Napoli è una città che ha saputo accogliere, integrare e che non dimentica e che in questo luogo dove natura e storia si incontrano e l'arte diventa bellezza, meditiamo, riflettiamo e invitiamo i giovani a non dimenticare perché gli orrori non si ripetano.